300 punti di energia per migliorare i brawler, però mancano i soldi. Raffagemme, un evento che io odio perché è difficile vingere. E' baffanculo però. Via! Questo lo fa apposta oppure è blu? Cominciamo proprio benissimo. Cazzo è questo qua? C'è un brawler? No, forse ho capito chi è. Gattetto! Guarda questo che si fa uccidere pure come niente proprio. Siamo fortissimi a giocare. Fortissimi, incredibili, sensazionale. Circondati ma va bene. Cazzo è sta cosa che lancia ogni volta, non l'ho capito. Sto brawler di fortuna c'è quello, ha ripreso tutto. Adesso ritirati, sì certo, si ritira quello di una gemma, non quello di 9. Andiamo a migliorare Cister. Ora, grazie, grazie. Grazie a tutti.